La presidente Rovere Poste Italiane promuove la cultura assicurativa come fattore di crescita. La presidente di Poste Italiane Silvia Rovere che è intervenuta alla 24esima edizione dell'Insurance Day organizzato da class editori nell'ambito del Festival delle Assicurazioni. E allora sentiamo un estratto delle sue considerazioni. Prima abbiamo spiegato al mercato cosa sarà la Poste del futuro. Poi abbiamo fatto in modo che in questo percorso verso futuro avessimo a bordo la risorsa più importante che sono i nostri collaboratori con un contratto che i sindacati hanno definito un modello. Questo ci fa molto piacere. Speriamo che lo sia perché venendo già poi ai temi di cui parleremo è un contratto che mette insieme oltre ovviamente agli incrementi retributivi che erano necessari per recuperare il potere d'acquisto vissi gli anni di inflazione ma tutte delle componenti di welfare e di previdenza perché c'è anche una componente di contribuzione al terzo pilastro che è fondamentale e su cui noi vogliamo prima di tutto abituare le nostre persone per poi farlo con i nostri clienti. Io credo che la nostra vicinanza alle persone con tutti i mezzi che prima descrivevo quindi la vicinanza nei territori che ormai siamo rimasti veramente la presenza dello Stato e l'ufficio postale in tantissimi territori e la vicinanza però anche a quello che è tutto il tema dei canali digitali che quindi ci consente di essere vicini anche alle nuove generazioni siano due componenti fondamentali per riuscire a alzare il livello della cultura assicurativa e quindi della comprensione in quanto è importante. Questa facilità di accesso deve essere un altro strumento di Maldello per superare questa diffidenza e questa non abitudine alla copertura assicurativa. Grazie.